Ebbene sì, sono anche io passato al lato scuro. Oggi a dire il vero faccio un video diverso dal solito, di solito sul mio canale cerco di parlare sempre di sviluppo videogiochi, però il canale si chiama Samurai Shaka quindi cerco di raccontarvi comunque allo stesso tempo un po' alcune mie decisioni, alcune mie strade, anche cose comunque abbastanza personali perché mi piace parlarne con voi e in generale comunque voglio che ci sia nel tempo un'evoluzione all'interno di questi video, anche perché parlare sempre di sviluppo di videogiochi ogni giorno è difficile e soprattutto per me che YouTube è una cosa neanche secondaria e terziaria perché come sapete il mio main business è quello di sviluppare videogiochi e quindi sono concentrato tutto il giorno a fare videogiochi su videogiochi. Oggi parliamo di una cosa secondo me interessante, infatti quello di cui voglio parlarvi è che finalmente ho detto quasi addio al mio vecchio telefono. Ho deciso di passare a ecosistema Apple e presto farò la stessa cosa anche per quanto riguarda la mia postazione di lavoro. Vi racconto anche un po' perché come sapete per molto tempo dal 2018 ho avuto al mio fianco come dispositivo un Samsung S9 che la decisione di comprare quel telefono è stata voluta proprio perché volevo registrare dei video, volevo fare video su YouTube e volevo cercare un telefono che avesse anche un'ottima fotocamera quindi per fare video in modo tale che non dovessi comprare sia una videocamera che appunto un telefono. Infatti se vi ricordate tutti i miei primi video, 4 mesi, 6 mesi, sono stati tutti realizzati proprio con quel telefono poi subito dopo acquistai questa quando effettivamente economicamente avevo la possibilità di fare un investimento di questo genere infatti acquistai proprio questa Reflex che sto utilizzando in questo momento. Da un po' di tempo però, come sapete, passano gli anni, non stai più dietro gli aggiornamenti, il telefono ha iniziato ad avere una serie di problemi. Uno dei problemi più grandi che ho avuto utilizzando il mio dispositivo è che io sono uno che raccatta tantissimi file media, file audio, musica, più che musica proprio in generale sono note vocali che mi vengono mandate, ma soprattutto foto e video. Talmente tante foto e video che io ad esempio nel mio telefono ho anche dei backup degli altri telefoni precedenti di un Note 3, ora non so se era un Note 3 o un Note 2, che avevo quando ero molto più piccolo, quando andavo ancora a scuola e quindi ho tipo 30 giga, 35 giga di WhatsApp e questo mi ha dato uno dei problemi più grandi che è stato quello che ogni volta avevo sempre memoria piena. Inoltre nel tempo la qualità della batteria inizia a diminuire, ho sempre il telefono scarico, inizio ad ascoltare un po' di musica, faccio un po' di hotspot, si mangia tantissimo la batteria e quindi ho deciso finalmente di cambiare telefono. Infatti, come avete visto, sono passato ad iPhone 13, in particolare il Pro, e ho preso proprio quello da 512 giga e dato che c'ero, vuoi fare l'investimento? Una cosa che ho apprezzato sempre, diciamo, per chi utilizza e chi ha ovviamente dispositivi Apple sono le AirPods, ragazzi. Io ho avuto altre cuffie Bluetooth, ma l'ecosistema questo qui è incredibile, il modo in cui comunicano tra di loro è perfetto. E vi racconto in generale perché ho deciso di fare questo investimento, ma soprattutto perché ho deciso di passare proprio ad un iPhone, che comunque ha un certo costo e così via. Partiamo dal presupposto che ovviamente ho deciso di fare anche un investimento del genere, perché economicamente, ok, posso farlo, quindi partiamo da questa cosa. Qualche anno fa o anche qualche mese fa non avrei mai deciso di spendere un po' di soldi per un telefono del genere. Però il telefono per me è uno strumento molto importante, che mi permette comunque di rimanere aggiornato su molte cose, di lavorare con i miei collaboratori, ma soprattutto per me il telefono deve avere una grande funzione, oltre a quella di telefonare e che funzionano WhatsApp e i classici tool. Sono le foto. Sembra banale, ma io amo tantissimo fare foto, tantissimo fare video, a scattare dei ricordi. È la qualità della fotocamera, della videocamera per me incredibile. Ora lo so che alcuni di voi diranno, sì ma Samuele ci sono altri Samsung migliori, è vero. L'unica cosa di cui attualmente un po' sono un po' giù, a dire il vero, ne ho parlato anche in live insieme a voi, è il fatto che sto utilizzando due telefoni in questo momento. Uno perché vorrei continuare a utilizzare due telefoni, ma non sono riuscito ancora a mettere WhatsApp qui dentro, perché vorrei passarmi tutti i file multimediali, tutte le conversazioni, tutte le chat. E' una cosa che mi piace avere, avere proprio tutte queste chat, avere tutte le conversazioni salvate sul telefono. E perderle mi dispiace. Quindi sto cercando di fare dei backup, però non è possibile trasferire le chat da Android, da iPhone, se non con dei programmi a pagamento, che però alcuni funzionano, altri non funzionano, alcuni sono degli scam e così via. Quindi aspetterò, penso, vedremo un po' quello che succede, dato che WhatsApp forse pubblicherà un aggiornamento riguardo questa cosa. Perché ho acquistato questo telefono? Uno perché, d'ora in poi, dato che voglio iniziare ad avere anche un dispositivo Apple, quindi vorrei comprare il prossimo portatile che voglio comprare per lavorare, voglio che sia un Mac portatile, o molto probabilmente anche un fisso chissà. In generale mi piace l'idea di iniziare a testare i miei videogiochi, proprio su iPhone. E comunque una grande fetta di mercato ha proprio questi dispositivi. Anche quando realizziamo videogiochi web, una cosa da considerare è proprio questa. Banalmente, con un nuovo aggiornamento di iOS, ad esempio, ragazzi, io non lo sapevo, e questa cosa l'ho letta su internet, però l'ho scoperta prima io adesso, così andando in giro. Cosa, secondo me, molto importante, è proprio che la barra di navigazione di Safari l'hanno spostata in basso invece che in alto. Questa cosa sembra una cosa incredibilmente brutta, e invece vi posso garantire che il livello di user experience è incredibile. Però, più che altro, è stata pensata molto per la navigazione web, non è stata pensata per i videogiochi, perché i bottoni che comunque noi posizioniamo in basso, in questo caso sono ancora un po' più in alto, perché la parte in basso viene un po' mangiata dalla barra di navigazione, e questo potrebbe essere un problema. In generale, comunque, mi piace l'idea di avere un iPhone espresso anche un dispositivo Apple o computer, perché una cosa che sicuramente forse più avanti farò non è detto, non è una priorità a dire il vero, e anche perché, molto probabilmente, forse potrei provare a vendere sempre più giochi esportati su Apple e così via, anche se è molto rara questa cosa, perché per tutto il 2020 e tutto il 2021 noi stiamo vendendo solo videogiochi web, ed è il main business che vogliamo fare. Diciamo che l'idea di passare all'ecosistema Apple è perché mi piace l'ecosistema, ho avuto in passato un iMac, mi sono trovato benissimo, e per lavorare, secondo me, hanno il loro pro come hanno il loro contro, come qualsiasi cosa. Quindi ho fatto questo salto, ovviamente preferisco rinunciare all'apertura di un dispositivo come Samsung, anche se io vi posso dire la verità, non avendo più 16 anni che magari smanetto col telefono, non mi interessa neanche più avere accesso a tutta quell'apertura, che tanto col telefono io non ci faccio niente. Io veramente ragazzi sul mio Samsung S9 utilizzavo solo tre programmi che erano chiamate, che neanche, Whatsapp e YouTube. Veramente ragazzi, tutte le altre applicazioni, vabbè, del monopattino, la banca e così via, ma vi posso garantire che non sono uno che utilizza tutte queste cose, a me interessa fare foto e così via. E purtroppo da un S9 di qualche anno la qualità delle foto si è ridotta tantissimo. In generale quindi volevo fare questo video aggiornamento, perché secondo me può servire, non può servire, vi racconto un po'. Quello che voglio dire io è che da oggi in poi posso comunque testare tutti i miei videogiochi, sia su iPhone che su Android, che non è una cosa che dobbiamo sottovalutare, perché per quanto comunque tutti i browser stanno andando in un'unica direzione di unificare il tutto, anzi si parlava anche di mettere Chrome ufficiale su iOS, ma questa cosa secondo me non succederà mai. Secondo me oggi, quando vado a rilasciare un videogioco, fare un test su Android e su iOS, secondo me anche solo veloce, posso farlo anche io, è molto molto utile. Banalmente anche questa cosa della barra di navigazione che adesso molti utenti la lasceranno in basso, secondo me adesso nel momento in cui si progetta un videogioco va pensata questa cosa, va assolutamente pensata. Viene anche mangiata la parte in basso che se io tolgo la barra di navigazione si rimpicciolisce, ma c'è questa parte nera che può dare molto fastidio. E quindi questa cosa sicuramente va molto ragionata. E successivamente, non voglio abbandonare quel telefono, cioè quel telefono credo che lo utilizzerò, anzi una cosa che comunque vorrei fare, anche se iPhone adesso l'ultimo aggiornamento ti permette di gestire bene le notifiche, quindi dire che ad esempio voglio ricevere solo le notifiche di Manolo e non di tutte le altre persone e così via, una cosa che sicuramente vorrei fare è provare a utilizzare più telefono. Sicuramente da gennaio forse acquisterò anche una nuova scheda in modo tale da dare ai miei clienti direttamente un nuovo numero, in modo tale da dividere completamente il tutto, quindi magari il numero personale lo metto qui dentro, mentre di miei clienti decido di metterlo proprio lì dentro su Android che comunque utilizzo sempre durante il giorno. Questo perché mi piace l'idea di avere due dispositivi, poi non so quanto comodo potrebbe essere, però come sapete sono uno a cui piace testare queste cose e provare un po' se effettivamente ne vale la pena oppure no. Lo sto utilizzando veramente poco, non ho ancora neanche fatto molti trasferimenti, per me ripeto il telefono non è uno strumento primario, però mi piace l'idea di avere un telefono che mi permette di fare un po' tutto, infatti ripeto, per me la cosa più importante è che funziona WhatsApp, che va YouTube, che posso fare le videochiamate, ma che soprattutto ragazzi posso fare delle ottime foto e degli ottimi video perché mi piace fare queste cose. In generale quindi volevo aggiornarvi, per le AirPods secondo me sono molto comode quando siamo in giro, quando facciamo le chiamate, sapete è una cosa che a me piace. Ditemi se vi piacciono anche questi video diversi, dove vi racconto un po' la mia opinione su tutte queste cose qui, perché magari potrebbe non piacere, ovviamente non è un video per tutti, non è un video per chi si è iscritto al mio canale, però in generale voglio aggiornarvi su determinate scelte che prendo. Ripeto, questa scelta è dettata anche dal fatto che passerò presto ad un ecosistema Apple totale, quindi voglio prendere anche un portatile, anche le AirPods sono per quello, perché quando sono con un cliente magari ho le AirPods, sono il computer, mi alzo, prendo il telefono, si connettono subito direttamente anche con il telefono, tutte queste cose qui. Poi sono piccole cose, piccole cose che possiamo anche farne almeno, ragazzi, io ho vissuto senza nessun problema senza tutte queste cose, secondo me avrei potuto continuare, semplicemente magari ognuno ogni tanto vuole passarsi anche uno sfizio in più e vuole anche testare, quindi magari vedrò se effettivamente questa cosa ne vale la pena oppure no. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, non odiatemi perché so che alcuni Android fanboy o robe varie saranno lì subito a dire eh, utilizzerò tutti i tuoi telefoni ragazzi, perché alla fine penso di utilizzarli. Ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! Ciao!